Musica Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di Mattino 6. Andiamo subito a scoprire cosa è successo in Abruzzo e nel mondo dalle prime pagine dei giornali più popolari. A partire dalle prime pagine del centro, vediamo dalla prima pagina dedicata alla provincia di Pescara, stop alla droga per la Pescara Bene, blitz della polizia in centro, arrestato un giovane sorpreso a spacciare. Ma vediamo anche a Montesilvano, ancora la questione del Giova Beach Party, c'è attesa per il concerto e Montesilvano è già al lavoro per giovanotti. Infatti il concerto forse si terrà lì, ma vediamo anche il letto manoppello, anziani truffati di 48 mila euro da falsi militari. E per quanto riguarda lo sport, palmiero il faro che illumina il Pescara di Zauri. La fotonotizia è dedicata alle vacanze, domani sarà Ferragosto ed ecco gli itinerari di Ferragosto appunto dove andare. Ma anche per quanto riguarda la politica nazionale, la notizia del giorno è che Salvini ieri in Senato ha sparagliato le carte, aprendo ai 5 Stelle dicendo di andare avanti fino al taglio dei parlamentari. Sfiducia, il Senato boccia la Lega, titolo al centro, crisi di governo, respinta la proposta di anticipare il voto contro Conte. In aula il 20. I 5 Stelle gridano al blef, Renzi appello e responsabili. Una questione che si ripercuote anche in Abruzzo per quanto riguarda le tensioni nella maggioranza tra la Lega e le altre componenti. Centrosinistra, maggioranza allo sbando sulle poltrone, le parole di Giovanni Legnini. Nel taglio basso vediamo anche una notizia dedicata a Nadia Toffa, morta a 40 anni. Il sorriso di Nadia Toffa che resterà con noi. Andiamo avanti a vedere la prima pagina dedicata a Chieti, Lanciano e Vasto. Arrestati i truffatori degli anziani, a Chieti due giovani napoletani incastrati durante i prelievi al Bancomat, ma anche la politica. Ieri c'è stato il Consiglio Comunale, a Chieti salvo di primio mai giallite per le elezioni. Mentre a Tollo il capo di vigili stroncato da un malore e per quanto riguarda la Serie D è stato sorteggiato il calendario e subito il derby bastese Chieti. Andiamo a vedere la pagina dedicata a Teramo. In apertura il titolo principale sulla sanità, ospedali arrivano otto primari. A Sliteramo il manager uscente Fagnano pronto a firmare le nomine. Fagnano infatti è diventato capo di partimento in regione. A Roseto il benzinaio picchiato esce dal coma, ad Albadriatica, sparatoria all'hotel Atlante, sei sono gli indagati. E sempre sul calendario di Serie B, di Serie D, ovviamente ci sono anche Pineto, Notaresco e Giulianova. La pagina dedicata all'Aquila Vezzano e Sulmona, ciclista travolto salvato dal casco, pizzanti, improniosi riservata, urtato da un'auto mentre si allena a Ocre. A Celano cade dal dirupo per sfuggire a una vipera. A Sulmona lo stadio Pallozzi, rassicurazioni sul campionato. Un'altra notizia dal calendario di Serie D che scopriamo poco a poco, l'Avezzano parte col Campobasso. Andiamo a vedere la pagina dedicata all'Abruzzo da parte del messaggero che apre con il turismo. Non c'è il pienone, presenza in calo nelle località di mare. Pochissimi gli stranieri, i vacanzieri spendono poco, ma si riscatta l'entroterra con le visite agli agriturismi, beni percorsi e no gastronomici. E vediamo sempre la questione del giovanotti. Tra due giorni l'ufficialità, scopriremo se il concerto si riterrà sulla spiaggia di Montesilvano oppure no. E intanto torniamo a parlare dell'Orsa d'Abruzzo, i carabinieri sulle tracce dell'Orsa Gemma. Vediamo la politica regionale. La giunta Marsilio interessata solo alle poltrone. Il centro-sinistra attacca dopo la verifica. Manager Asl, nuovo caso Zavattaro incerto. Ma anche vediamo la fotonotizia della stazione di Pescara, le scale mobili bloccate. Infatti stazione, scale mobili e ascensori K.O., scale mobili e ascensori fuori uso nella stazione ferroviaria di Pescara Centrale. Protestano i passeggeri e vacanzieri che devono arrivare binari, magari anche con le valigie. Ma vediamo anche Morgante, da Trenitalia in regione, qui per accelerare. Roberta Morgante è il nuovo direttore generale dei dipartimenti regionali. Andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Chiusa l'inchiesta sulla notte di sangue, si è indagati a vario titolo per la rissa a colpi di coltello e pistola all'hotel Atlante di Alba Adriatica. E a Teramo, i campi della Frazioni tornano alle società. A Giulianova, Chioma di Pino cade di fronte alla caserma. E per quanto riguarda la sanità, pronti i piani per tagliare le liste d'attesa. Ma vediamo un'altra notizia. Giulianova rincari in arrivo per il trasporto scolastico. E c'è anche l'allarme lanciato dal Nursind, pronto soccorso di Santomero al collasso. A Silvi una task force per i controlli del Ferragosto, come di consueto, ogni anno. A Teramo anche la denuncia della città. Il degrado riaccende il dibattito su Via Longa. Mentre al Roseto degli Abruzzi è pronta la nuova postazione del 118 alla Casa Rosa. Diamo anche un'attenzione alla fotonotizia. A caccia di abusi, come nei giorni scorsi, la caccia ancora alle irregolarità nei chalet della Vibrata, in questo periodo di vacanze. Andiamo a vedere i quotidiani nazionali. A partire dal Corriere della Sera, chi apre con la politica? Movimento 5 Stelle, PD insieme battono Salvini. Il leader della Lega, tagliamo i parlamentari e poi andiamo al voto. Le perplessità del Colle. Infatti, secondo il Corriere della Sera, in Senato una maggioranza inedita. Conte in Aula il 20, Renzi apre al governo di legislatura con i grillini. No di Forza Italia al carroccio per quanto riguarda la lista unica. La fotonotizia è dedicata a Nadia Toff, la giornalista Mediaset scomparsa, perché la rete dovrebbe chiedere scusa a Nadia a riferimento agli insulti dei metodi scorsi sui social media. Ma vediamo anche un po' di notizie che arrivano dall'estero. Allarme USA per incidente nucleare russo, secondo gli Stati Uniti, e la più grande catastrofe nucleare dopo Chernobyl, mentre Trump frena sui dazi alla Cina e volano le borse. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Vediamo La Repubblica, il giornale fondato da Eugenio Scalfari. Crisi, il grande blef, titolo La Repubblica. In Senato spunta una nuova maggioranza, Grillini, PD e Liberi uguali. Battuto il centrodestra, Conte in aula il 20 agosto e non oggi. Salvini a sorpresa offre ai 5 Stelle il taglio dei parlamentari e subito elezioni. Di Maio comincia a togliere la sfiducia al Premier e l'avviso di Mattarella. Impensabile fare la riforma e andare al voto. Anche qui la fotonotizia è dedicata a Nadia Toffa, morta a 40 anni. Ciao Nadia, la ragazza che non aveva paura, affrontato il cancro con il sorriso. Battiti e vivi è il messaggio che ci lascia. Ma vediamo anche a Lodi, Super Enalotto Record, a 209 milioni con una schedina da 2 euro a un fortunato cittadino. Andiamo avanti, il Fatto Quotidiano. Da Matteo una mossa disperata, le elezioni le decide Mattarella. L'intervista del Fatto Quotidiano a Luigi Di Maio, che parla per la prima volta dopo la crisi. Il Vice Premier parla dell'ex alleato, si è messo in un cul de sac. Se davvero volesse votare la riduzione dei parlamentari, dovrebbe ritirare la mozione di sfiducia al Premier. Poi l'affondo, in realtà la crisi è nata perché lui vuole rivedere la prescrizione, scongiurare la revoca, delle concessioni ad autostrade. Vediamo Salvini in fotonotizia all'angolo, contenzionato, non oggi ma il 20. Taglia la casta, il blef di Salvini vale 60 milioni, denuncia il Fatto Quotidiano. battuto da 5 Stelle, PD, l'EU, sul calendario forzato. Apre la riduzione dei parlamentari, ma solo dal 2024. Così si tiene tutte le polcone e riempie le casse vuote, dice il Fatto Quotidiano. Ma anche il nuovo asse 5 Stelle, PD regge, Premier politico, Conte o esterno, per quanto riguarda il dialogo sotterraneo sul governo. Andiamo a vedere nel taglio basso, anche qui ovviamente Nadia Toffa, la Iena che si è mangiata il mondo fino all'ultimo giorno. Ma vediamo anche perché oggi è l'anniversario della caduta del ponte Morandi, un anno dopo volano i conti di Benetton e proprio per questo si è tornato a parlare delle concessioni di autostrada. Ma anche, vediamo, Pier Casiraghi, Greta imbarca all'ONU, ma mica sono un simbolo per quanto riguarda l'ambientalismo. Ma anche le elezioni degli Stati Uniti che si terranno nel 2020. Sanders promette la verità sugli UFO per battere Trump, il candidato socialista. Andiamo avanti, Libero, intrighi a palazzo, la via d'uscita dalla crisi e l'imbroglio, secondo Libero. Salvini costretto a fare marcia indietro, voto rinviato, vincono i mestatori. I grillini si alleano con la sinistra pur di non tornare alle urne, che sarebbe la loro tomba. Un labirinto di manovre per salvare la legislatura a costo di tradire le regole della democrazia. Ma anche Briatore, che vuole scendere in politica, è una bestemmia faccia solo il ricco, dice Vittorio Feltri. A proposito del movimento del fare, il movimento che vorrebbe proporre Flavio Briatore. La toffa non c'è più, uccisa dal cancro, fu sbeffeggiata perché scrisse un libro sulla propria malattia. Chi la criticò ora la piange e deve morire per essere rispettato. Sono democratici ma odiano le urne e poi gridano al dittatore e l'attacco di Libero contro il PD. Mentre per quanto riguarda la Lega, così Matteo prova a uscire dal tunnel, la proposta di rimanere fino al taglio dei parlamentari. Ma ancora, il monopattino è un'arma che sfugge alla legge, è pericoloso e non si può regolamentare all'essero. In molti l'hanno bandito. Andiamo avanti. Il messaggero. Prove 5 stelle PD contro Salvini. Assi al Senato, passa il voto di sfiducia al Premier il 20 agosto. Anche 5 stelle divisi. Mossa della Lega, taglio dei parlamentari e subito le urne, ma elezioni più lontane. Anche qui ovviamente una foto di Nadia Toffa, l'inviata delle Iene, aveva 40 anni. Ma anche l'eroica impresa di resuscitare l'avversario Melle Corde. La denuncia del messaggero per quanto riguarda i democratici e i grillini nell'editoriale di Carlo Nordio. Ma anche a Genova, per quanto riguarda il ponte Morandi. Un anno dopo ritorna il governo dell'occasione mancata. Oggi dove sorgeva il ponte, Premier e vice in crisi, le famiglie delle vittime disertano per protesta la manifestazione istituzionale. Ma anche come nel 2011, Germania crolla l'indice di fiducia. Crolla l'indice di fiducia dell'investitore in Germania. 19 punti in meno in un colpo solo. Ma anche qui, tragedia in Croazia, la vittima italiana, lo yacht a noleggio, perde fumi tossici, muore imprenditore, grave la famiglia. Mentre tutta l'altra situazione ha l'Odi, 2 euro per un sogno, 209 milioni. Il jackpot più alto di sempre, con una mini combinazione scelta a caso dal computer. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa con il giornale Inciucio, PD 5 Stelle. Nasce un mostro, titola il giornale. Grillini e Democratici votano in Senato la stessa mozione sulla fiducia a Conte. C'è una nuova maggioranza, governo morto. La Lega torna con il centrodestra. Salvini, staglio dei parlamentari e poi le urne. E l'ira del Colle. Proseguiamo l'orgoglio azzurro, sì, alla coalizione, ma non ci diluiamo. È la risposta di Berlusconi al leader del Carroccio. Ma anche vediamo che per la Lega è anche alto il rischio di autogol. Marenzi impone la linea grazie all'assist di Fico nei Democratici, che rimangono quindi internamente divisi. Andiamo a leggere il mattino di Napoli. PD 5 Stelle, prove di patto. Sfiducia non passa, la linea di Salvini continua il 20 di agosto. Il voto si allontana contro mossa del leader leghista o che ha il taglio dei parlamentari. Se si va però subito alle urne. Il fronte del no alle elezioni e per il governo di legislatura spuntano Cantone. Fico e Flick, la trattativa PD 5 Stelle, marcia sulle quotazioni più alte per un possibile nuovo premier, sono appannaggio dell'ex presidente dell'anticorruzione Cantone. Spuntano anche Fico e Flick come possibili premier. La disputa Matteo contro Matteo, la sfida finale dei gemelli diversi. Ma c'è anche un inservizio a Tofalo dei 5 Stelle che dichiara con Zingaretti il dialogo è possibile. Nadia Guerriera, anticancro con il sorriso. Anche qui ovviamente la fotonotizia dedicata alla giornalista. L'analisi Berlusconi, il capitano e la tregua necessaria tra i due che tornano insieme compatti. Ma anche le mamme coraggio, salvati i nostri figli dall'incubo pusher a Napoli. L'inchiesta che svela gli affari dei clan, partita dopo due lettere shock ai carabinieri. Il manifesto, il quotidiano di ispirazione comunista. Salvini spara a salve l'ironia del manifesto. Un'altra maggioranza, PD, 5 Stelle, l'EU e anche più Europa, si accende sul tabellone del Senato. Battuto il centrodestra, Salvini tenta lo spariglio con il sì al taglio dei parlamentari. Ma il presidente della Camera Fico lo neutralizza mettendolo in calendario solo dopo le comunicazioni di Conte. Mentre vediamo che la maggioranza si era accesa pochi giorni fa, PD e Lega compatti nel votare il sì alla TAV. Vediamo governo di legislatura, l'ipotesi migliore e la più difficile. E sulla crisi, Salvini vuole il voto per scassare il sistema democratico. Tolto Salvini, che l'ha voluta, la crisi di governo ha precipitato nel panico tutto l'arco politico. Come osservato Nadia Urbinati sul manifesto, una sua vittoria elettorale e un suo governo rischiano di accelerare il degrado del regime democratico. Questa è la grande minaccia all'orizzonte, secondo il manifesto. Ma vediamo Renzi risorge, accordo possibile, l'appello dell'ex premier alle forze politiche, accogliendo le richieste di Zingeretti. Ma anche per quanto riguarda i liberi uguali, il governo con i 5 stelle, ora il PD ha capito il lavoro al centro, e quanto ha dichiarato Fornaro, ma anche in Marocco la guida per migranti che sognano la fuga, la storia di Boubacar all'interno del quotidiano. Andiamo avanti, il sole 24 ore, il principale quotidiano politico e economico finanziario, perdonatemi, passa la linea 5 stelle PD, Conte in aula il 20 di agosto, ma anche, come leggevamo, Trump apre sui dazi, i mercati volano. Per quanto riguarda la spesa pubblica dalla scuola alla sanità, 380 mila i posti in bilico, ma anche offerte più elevate, i fondi battono la borsa, per quanto riguarda l'immobiliare, testa a testa a Mediobanca della Capital nel cuore di Milano. Proseguiamo con il tempo, è nato il partitone dell'inciucio, in Senato PD e 5 Stelle votano insieme per rallentare la crisi, accordo di governo vicino, Salvini prova il blef, subito il taglio dei parlamentari e poi le urne, ha dichiarato il ministro dell'interno, ma nessuno a bocca. La fotonotizia, il tempo come al solito, una vignetta, me ne vado un attimo a cambiare che sotto c'è il costume fracico, che se chiedo sempre scusa per il mio rovanaccio, l'ironia del tempo, onorevoli in astinenza da ferie, stamattina ero ancora al mare. Ma il grillino Marosso, il fico giusto al posto giusto, colui che potrebbe diventare il premier di un'eventuale coalizione 5 Stelle PD, ma anche frenata sulla scissione all'interno dei democratici, Renzi riscende in campo, ma lascia le rogne a Zingaretti. E salta l'incontro Salvini-Perlusconi, gelo Forza Italia-Lega sul listone, centrodestra in salita. Ma col carroccio al 4%, il cavarriere fu molto generoso per quanto riguarda i posti e le candidature ai padani. Si apre uno spiraglio per il funerale di Diabolic, l'ultra della Lazio, ammazzato con un colpo in testa. Dopo il no della famiglia alle seque private, la questura valuta concessioni su orario e partecipanti, ma anche forze armate sotto attacco da Collatino a Conca d'Oro, agenti ancora aggrediti, secondo il quotidiano Il Tempo. Tempo. Proseguiamo, andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Salvini, taglio dei deputati e voto, ma non basta evitare la sconfitta. Mattarella sorpreso dalla mossa del vicepremier, le nuove Camere sarebbero delegittimate. Crisi Conte al Senato il 20 e alla Camera il 21, respinta alla mozione della Lega, sostenuta dal centrodestra. La fotonotizia è dedicata all'anniversario della tragedia di Genova, Genova e il Ponte Morandi, il giorno del ricordo e dell'orgoglio. Cantieri multietnici, chi sono i mille della ricostruzione a Genova, ma anche forti e senza tempo sospesi sull'anima delle nostre abitazioni. Quei frammenti, quelle 43 vite spezzate nel dolore infinito. Andiamo avanti. La verità, programma e facce di bronzo del governo senza vergogna, dice il quotidiano di Maurizio Belpietro. Rinviata la sfiducia a Conte, ecco che cosa accadrà se i PD e 5 Stelle si mettono d'accordo. Sul pieno economico ci sarà una patrimoniale per finanziare salario minimo e ampliamento del reddito di cittadinanza. E sull'immigrazione vi è degreti sicurezza e sì allo ius solis, soli e poi eutanasia. E bimbi ai gay, l'esagerazione della verità di Belpietro. Salvini, tagliamo i parlamentari e poi subito al voto. Il leghista a sfida di Maio per accelerare i tempi. Il grillino spiazzato, sì ma Renzi cala le braghe, tutto va bene per evitare le urne. Ma anche il bullo è terrorizzato dall'assedio dei magistrati, sempre parlando di Renzi. Ma quante volte può smentirsi nel corso di una sola vita? La colonna di destra tutta dedicata all'ex premier, il sospetto di Piglion. C'è la prima adozione gay, il senatore leghista sul blitz del Tribunale di Roma. Altro che single, il complottismo omofobo. Andiamo avanti, il secolo, la piazzata del Senato. Partito Democratico come i centri sociali, addirittura non si deve parlare, non si deve votare nell'editoriale di Francesco Storace che tira in ballo anche i centri sociali. Fake news della Meloni, verità non piace alla sinistra, secondo la leader di Fratelli d'Italia. All'avvenire, retromarcia e slalom, Salvini cambia linea su dimissioni ministri e taglio parlamentari, ma conferma la sfiducia a Conte. Di Maio cerca l'incasso, il PD si propone, il Quirinale è sorpreso per l'idea di congelare la riforma. Ma vediamo, per quanto riguarda i migranti, nessun approdo per Open Arms e Ocean Waking, in violazione delle norme. Pure i minori senza porto, il Tribunale si fa sentire, ricordiamo che sono ancora in mare. Andiamo a vedere rapidamente le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che apre ovviamente sul calciomercato. Lukaku spacca tutto, il belga è già un protagonista nell'Inter, supera allenamenti, fatica e una dieta speciale. Il cibo italiano per ora mangia 80 in salata. Ezeco più lontano, la Roma stoppa via soltanto per i cardi. Gran premio Juve, il Monaco vuole portare a Monte Carlo, Rugani e Matuidi, Bayern su Mandzukic. Per quanto riguarda Neymar, svolta 100 milioni e cutigno per un barca stratosferico, e verso l'addio al Paris Saint Germain. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport. La Juve blocca tutto, Zeco e Cardi, prigionieri della signora. Mentre un miliardo e non è finita, dieci giorni dall'inizio del campionato, già speso un tesoro. Ma tanti big sono ancora sul mercato. Vediamo, tra la Roma e Zaniolo, prove di sì, il club giallorosso e il Niccolò lavorano per ridurre la forbice sull'ingaggio fino al 2024. Andiamo a vedere la prima pagina di Tutto Sport. Vince Sirigu, Paleari o Montipò, in attesa di annunciare l'acquisto di Verdi. Il Toro stringe per il secondo portiere. Per quanto riguarda Di Bala, esame d'amore, oggi Juve A e Juve B a Villarperosa, dove è previsto il consueto abbraccio con il popolo bianconero. Per l'argentino sarà un autentico test sul feeling con i tifosi, al di là della volontà di cederlo. Da parte del club, ma anche l'automobilismo, la Ferrari a Spa con 20 CV in più, Formula 1, nuovo motore per il finale di stagione. E abbiamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa. Nella seconda andremo a sfogliare pagina per pagina i quotidiani regionali, ma prima le previsioni meteo per questa giornata. A tra poco. Ben ritrovati con la rassegna stampa di Mattino 6. In questa parte andiamo ad approfondire la cronaca abruzzese, sfogliando pagina a pagina i quotidiani locali, a partire dal centro, che nella pagina 2 titola La maggioranza sbanda sulle poltrone, a proposito delle polemiche dopo la verifica del programma dei primi sei mesi di governo regionale, Legnini e altri consiglieri del centro-sinistra intervengono sulla crisi di Ferragosto. L'Abruzzo è di fatto senza guida, ma anche formazione professionale, meccanici e parrucchieri. La regione finanzia sei corsi, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico, Cerella si ha un nuovo piano dei servizi. La sperimentazione pensata per contenere i costi durerà tre mesi. A Pescara, la prima pagina dedicata al Ferragosto. Ecco gli appuntamenti. Ferragosto da vivere al mare, la guida per chi resta in città da nord a sud, offerte per tutti i gusti sulla riviera. Ecco cosa propongono gli stabilimenti. Allo Stadio del Mare sbarca lo swing. Quattro giorni di esibizioni con ospiti internazionali, mentre il meteo, vediamo, dovrebbe essere soleggiato. Artisti di strada, Luca Carboni e Fuochi. A Francavilla, oggi e domani, c'è il Macondo Festival. Sabato, gran finale con concerto e show pirotecnico. A Montesilvano, serata revival anni Ottanta con Pappalardo e Alan Sorrenti. Al Teatro del Mare si balla e si canta anche con Luisa Corna, Paolo Vallesi e Silvia. A mezzanotte, conducono la serata Beppe Convertini e Federica Peluffo. Andiamo avanti. Sui bus senza aria condizionata, tra guasti, proteste di chi viaggia autistico, il ventilatore per difendersi dall'AFA, mentre gli utenti aprono finestrini e usano i ventalli. Disaggi per i passeggeri delle linee 3,5 che segnalano continui problemi ai mezzi e alle macchinette. La denuncia di Pettinari dei 5 Stelle, solo 4 controllori, l'evasione sugli autobus, denuncia Pettinari è altissima. Andiamo avanti. Blitz in centro a Pescara, pedinamenti e controlli, bloccata la droga per la Pescara Bene, giovane incensurato, sorpreso a spacciare in via Terra, morrestato dalla polizia. In casa aveva marijuana, hashish e coca. Simula il furto d'auto, neguai a 25 anni, una tentata truffa all'assicurazione è stata però scoperta. Muore l'allenatore del Caprara, Francesco Pace, stroncato a 55 anni da un malore in casa. Oggi si terranno i funerali, mentre incidente sulla riviera, una ragazza ferita a Pescara, un'auto si è scontrata con uno scooter. Manovre tra i dirigenti comunali di Incecco e Ballone verso l'addio, i responsabili dei settori verde pubblico e protezione civile, pronti a lasciare per andare alla Regione. Le sostituzioni rinviate a ottobre per la Polizia Municipale sono in arrivo da fuori due nuovi ufficiali. Di Pino della Lega in Via Mazzini va invertito il senso di marcia, ma anche la denuncia a strada parco nel degrado allarme. Frattarelli, rifiuti, lampioni rotti e rammisecchi generano pericolo, ma anche troppi accessi al pronto soccorso. Dinizio e Pignoli servono ambulatori per curare i casi meno gravi. Ma a proposito, per quanto riguarda l'appello dell'assessore, del consigliere alla Regione, della questione del pronto soccorso di Pescara, andiamo ad approfondire meglio nel nostro servizio. Emergenza Caldo, Pescara, assalto al pronto soccorso dell'ospedale civile, non è una novità. Assessore, lei stamattina è stata al pronto soccorso dell'ospedale, che situazione ha trovato? Rivolgere all'assessore Verì un tavolo dove abbiamo predisposto di fare degli ambulatori, ambulatori che possono prendere tutti i codici bianchi e verdi, che sono quelli che poi alla fine vanno ad intasare il pronto soccorso. È ovvio che queste novità già erano state portate al tavolo della Regione e già era in programma di mettere degli ambulatori anche sul territorio con i medici curanti. Poi non è andato più a buon fine, non sappiamo, è ovvio, la motivazione. Però questa cosa va riproposta perché è l'unico modo di poter risolvere il problema. Ci sono stati 339 accessi in pronto soccorso, di cui 65 gialli e 3 rossi. Significa che la vita della persona è abbastanza messa a repentaglio. Ma la cosa più assurda è che ci sono stati 216 verdi e 55 bianchi, che potrebbero essere curati tranquillamente o attraverso i medici base, oppure andando, e voglio ricordarlo, alla cittadinanza, alle guardie mediche. Questo bigliettino che io voglio far vedere alla cittadinanza, dove ci sono dei numeri disponibili. A che cosa serve? Serve alla consegna dei farmaci al domicilio. Quindi significa che se si chiama questo numero si può ovviamente prenotare dei consegni di farmaci al domicilio, l'accompagnamento per visite mediche programmate e improrogabili, la consegna da spese alimentari. Ovviamente questa è rivolta alla cittadinanza, alla cosiddetta terzietà, dove l'assessore ha anche le proprie competenze. Scriverò al sindaco e all'assessore Veri, il primo in qualità di presidente della commissione, presidente dei sindaci ristretti dell'AS, la seconda in qualità di assessore della sanità, perché questo protocollo debba partire immediatamente. Partendo questi, i problemi dell'AS all'interno del pro soccorso, secondo me, vengono sostanzialmente migliorati. C'è preoccupazione per quanto riguarda il debutto del Pescara Calcio, il primo di settembre, per quanto riguarda le condizioni dello stadio. Infatti il campo dell'Adriatico con l'erba secca e le buche, il manto erboso apparso in cattive condizioni durante la partita di domenica. E l'assessore Martelli, colpa dei concerti, bisogna riflettere in futuro se vietarli oppure no. Andiamo avanti con la pagina di Montesilvano. Giovanotti a Montesilvano, la città è già a lavoro. In vista della riunione, in prefettura, il sindaco De Martinis sta predisponendo il tutto. Più spazio in spiaggia, grazie agli stabilimenti, 62 li autoarticolati da smistare. Leggiamo velocemente i numeri dello show che sono interessanti. 29 mila i biglietti già venduti per il concerto poi saltato di Vasto, 300 lo staff di tecnici, autisti e operai al seguito del tour, 62 gli autoarticolati che trasportano gli impianti e 10 i musicisti e i coristi che accompagnano Giovanotti. Approfondiremo in seguito questa questione. Per il momento andiamo avanti, parliamo dello spoltore Ensemble che è partito. Apertura show con Cirilli. Venerdì comincia l'edizione numero 37. L'attore porta in scena in Largo San Giovanni il nuovo spettacolo. Mi piace, ma anche una donazione anonima a Montesilvano. Anonimo Duna dona al comune una carrozzina per dei sabili. Mentre la città Sant'Angelo, cocomerata di Ferragosto e musica all'Outlet Village. A proposito di cosa fare domani. Ingiunzioni e multe via libera del comune alla rottamazione terra. Francavilla sono circa 6 mila i cittadini interessati ad aderire al pagamento senza mora. Predisposti due tipi di pagamento. Ma musica e devozione con le feste patronali a San Giovanni ti attivano i festeggiamenti di San Rocco da venerdì 16 agosto. Anziani truffati portati via 48 mila euro. A letto manopello coniugi ottantenni ingannati con il trucco del figlio che aveva provocato gravi danni in un incidente. Ma anche a Rosciano auto contro moto, Centauro in ospedale. Mentre vediamo a Rigopiano picnic vietati nell'area dell'hotel con l'avvicinarsi di Ferragosto. Il sindaco di Farindola ripete l'ordinanza contro i turisti senza rispetto, cosiddetti turisti del macabro. Andiamo a vedere la pagina dedicata a Chieti in fuga con i soldi degli anziani arrestati. Giovani napoletani incastrati dalle telecamere portano un pensionato in banca per prelevare 2.300 euro. Poi scappano, vediamo qui le immagini. Ma anche non lasciate da soli pensionati. A proposito, l'appello del questore. Sono facili prede di persone senza scrupoli. Noi in prima linea. Ma anche in bici lungo i trabocchi. Noleggi in otto stazioni. In vista dell'apertura della via verde. Ma continuiamo a parlare di giovanotti. La lega contro menna vasto. Bocchino evidenti responsabilità politiche del comune. Ora si scusino. Ed Alfonso rivela, a proposito sempre del Jova Beach Party, dietro il no, ci sono pregiudizi personali, secondo l'ex governatore. Andiamo avanti. A Teramo, Fagnano sta per nominare otto primarie. Uno degli ultimi atti del direttore generale che a settembre andrà in regione. In arrivo anche sei capi di partimento. Mentre vediamo Sant'Omero. Il pronto soccorso è al collasso. Il nursing segnala che mancano gli infermieri. E si creano lunghe file. Mentre Verna ringrazia il manager. Ha avviato il nuovo ospedale, sempre a Teramo. Ma anche una nuova tragedia sui monti. Vittima un pensionato 64enne romano, turista struncato da un infarto durante l'escursione sul Gran Sasso. Andiamo avanti. Un piano di sicurezza per il Ferragosto. Silvio e Pineto mettono in campo battuglie di vicili che presideranno il litorale per evitare incidenti e danni all'ambiente. Il comitato di Renzi si costituisce a Pineto. Sarà coordinato dall'ex vice sindaco Pallini. Ma anche per quanto riguarda la nuova discarica appello ai vertici del consorzio. E il cittadino e il commissario deve opporsi. Andiamo avanti all'Aquila. Strade pericolose. Ciclista travolto viene salvato dal casco. Il 19enne Pizzanti, area zero pro team. Ricoverato in proniosi riservata. Ortato da un'auto. Mentre si allena a Ocre. Ma anche violenza sessuale tra le mura di casa. Nei guai un 46enne. Vittima una parente minorenne. La procura chiede il processo. Decide il giudice. Andiamo avanti. Cade nel dirupo per sfuggire a una vipera. Escursionista 62enne di Pizzoli. È ricoverato in rianimazione con diverse fratture. Gli amici fanno una barella con i tronchi. Per quanto riguarda l'incidente all'Aquila. È aperta l'inchiesta sull'incidente di Preturo. Elicottero caduto. Trovato il messaggio dell'aviatore. Andiamo avanti. Prima di affrontare le pagine sportive. Andiamo a vedere il messaggero. Messaggero Abruzzo. I turisti più facoltosi ignorano l'Abruzzo. Mare finora non c'è. Il tutto esaurito. Rammarico degli operatori balneari. Mancano gli stranieri. E la formula delle presenze è al risparmio. Per quanto riguarda i manager delle Asle. Esplode un nuovo caso. Zavattaro indeciso. Se accettare la nomina. Mentre ricordiamo dovranno venire nominati tutti e quattro. i vertici delle Asle. Dei capoluoghi di provincia. Andiamo a Pescara. Stazione Ascensori e scale mobili K.O. Il terminal ferroviario. Gremito di turisti. Che protestano intollerabili disservizi. Nel periodo di punta della stagione. Cartelli di Ferroviello Stato. Spiegano colpa del maltempo del 10 luglio. Tutto tornerà a funzionare meglio. Entro metà settembre. Super caldo. Quasi 400 pazienti al giorno. Nel pronto soccorso. Andiamo a vedere giovanotti. Due giorni per l'ufficialità. Oggi è venerdì. Le riunioni decisive. Per mettere in sicurezza. Il tratto di spiaggia. Che dovrà ospitare. Il 31 mila spettatori. Il sindaco De Martinis. Il sì all'evento ormai. È quasi certo. Stiamo già lavorando ai punti di raccolta e alle navette. Ma andiamo a vedere meglio per quanto riguarda la candidatura di Montesilvano ad ospitare il Jova Beach Party nel nostro servizio. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Sicuramente stiamo lavorando sotto traccia e con prudenza nella misura in cui comunque al di là del lavoro svolto in questi 10 giorni che ha visto la nostra amministrazione tutta lavorare per dare migliori risposte a chi poi dovrà decidere. Ci sono poi appunto dei pareri importanti che sono quelli della Prefettura, della Questura ma anche dei Vigili del Fuoco e di tutti coloro che si occupano di questi eventi. Motivo per il quale usiamo la massima prudenza però siamo pronti e onorati ad ospitare questo concerto. Ce la stiamo mettendo tutta, come detto prima, con la speranza poi che non ci siano elementi che possano andare a inficiare all'ultimo momento l'evento. Per noi sarebbe una grande soddisfazione, un grande colpo nella misura in cui Montesilvano sarebbe il protagonista di un evento che porta 40.000 persone certe sul territorio abruzzese. E' un motivo per il quale non soltanto Montesilvano ma anche tutto l'Abruzzo avrebbe a ricasco degli elementi positivi per il territorio. Sindaco, qual è l'area che è stata individuata per ospitare eventualmente l'evento? L'area individuata è il tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti Bagni Bruno e gli stabilimenti Sabbiadoro, ridosso quasi della Stella Maris. È un'area che gli organizzatori hanno da subito colto positivamente e dovranno essere messi in atto delle operazioni che porterebbero appunto quell'area a essere in qualche modo idonea, ancor più idonea. Noi ce la metteremo tutta anche in concerto appunto con gli enti sovracomunali che sono fondamentali in questo. Andiamo all'Aquila, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, giornata nera in montagna, come abbiamo già visto muore davanti alla figlia un 64enne, ex colonnello dell'aeronautica, stroncato da un malore sul Gran Sasso e il secondo decesso in pochi giorni, la Salma trasportata all'ospedale cittadino. Ma vediamo comune le partecipate al centro della crisi, sempre all'Aquila, ma anche post ironici sulla Toffa, Taffo denuncia. Andiamo avanti, Petrocchi con falonieri un gigante affollata la chiesetta di Santa Maria della Neve sul Gran Sasso per la celebrazione legata all'intitolazione del picco al cardinale. Andiamo avanti, isola pedonale, summit da Passerotti per quanto riguarda Avezzano, gli operai del comune piazzano i cartelli che delimitano il divieto e scoppia la contestazione dei commercianti. Intanto spunta un giallo, non si trova la delibera dell'ex giunta con la quale si dispone la chiusura al traffico del quadrilatero. Ma ha incendio sul Monte Morrone, torna incubo di due anni fa in quel di Sulmona. Ma andiamo avanti con la pagina dedicata a Chieti, in apertura la politica, come dicevamo ieri si è tenuto il Consiglio per ricucire lo strappo in seno alla maggioranza. Bilancio votato, resta la crisi di Primio a Forza Italia, basta ricatti il sindaco brutto quanto accaduto, lo scambio di deleghe un capriccio. Il capogruppo forzista, se lo avesse detto prima del voto, ora sarebbe a casa. Ma andiamo ad ascoltare proprio le parole del sindaco Umberto Di Primio a margine del Consiglio Comunale di ieri pomeriggio. Vediamo. Ma è normale che il consuntivo venga approvato da una maggioranza solida e è altrettanto normale che le opposioni facciano la propria parte. Oggi Chieti raggiunge un obiettivo che è quello di riconquistare una maggioranza numerica. Non l'abbiamo mai persa sotto il profilo del consenso. Abbiamo dovuto, come dire, sottostare a qualche litania della politica. Ma il senso di responsabilità, la voglia di costruire, la voglia di fare soprattutto il bene della città hanno prevalso su tutto. Sindaco Lenaula ha parlato di ricatto, il rimpasto delle deleghe c'è stato, l'amministrazione salva. Ha vinto Forza Italia? Io non ho parlato di ricatto, non ha vinto nessuno. Abbiamo perso tre mesi per dare in qualche modo soddisfazione a chi voleva per forza aprire una crisi politica, che politica non era, sull'amministrazione. Vi è stata una presa di posizione forte contro un assessore, ingiustificata e ingiustificabile. Mai avrei cacciato quell'assessore e questa è la vittoria della politica. Abbiamo fatto uno scambio di deleghe che è qualcosa che in politica può esserci sempre. Credo che però la cosa più importante è che oggi noi abbiamo dimostrato che questa amministrazione comunale, questo sindaco sono stati in grado in pochi anni, negli ultimi tre anni, di mettere in piedi un bilancio che non ha più il parere contrario del Collegio dell'Evisore dei Conti, di mettere in piedi un bilancio che ha, parlo del preventivo, grandi possibilità di sviluppo per la città e di un consuntivo che dice che quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno è stato fatto bene. È una vittoria sua o del gruppo? È una vittoria di chi ha buonsenso, di chi non vuole battere il petto per far vedere che è più grande e la vittoria di chi ha a cuore questa città. Io credo che oggi, più che mai, si possa dire che in questa città esiste un gruppo coeso che è quello che in questi mesi ha sostenuto a prescindere l'amministrazione comunale. Si è creata una maggioranza, non nuova, ma diversa. C'è una maggioranza che ha bisogno di entrare nelle cattedrali delle litanie della politica e c'è una maggioranza che guarda soltanto ai cittadini e alle cose buone per la città. Insieme possono fare buone cose. Sì, con lei il Consiglio ha parlato di una nuova maggioranza che però avrà una cicatrice. Io ho detto che quello che è successo umanamente non può essere cancellato. Ho detto che gli scontri ci possono essere sempre, ma se ci fosse stato uno scontro politico non avrebbe lasciato alcun segno, ma prendersela quasi personalmente con un assessore lascia il segno e lascia l'amarezza di chi non ha avuto l'accortezza del rispetto nei confronti delle persone. Ma torniamo sulla questione del Jova Beach Party e anzi sul concerto saltato di Vasto perché sono persi 3 milioni, secondo il messaggero, con fesergenti e la stima dei mancati introiti per il territorio danno importante per la città di sdette stanze d'albergo e bed and breakfast. Il caso finisce in Parlamento, interrogazioni di D'Alfonso e Castaldi, oggi conferenza stampa di sindaco e senatore PD. Discarica del Civeta, Blitz del Noe, ma andiamo avanti con le pagine di Teramo. Ringrazierò, riorganizzerò la sanità anche a livello regionale. Il manager Fagnano diventa responsabile abruzzese dopo l'imprimatur dell'Averi, guadagnerò di meno, il sospetto resta. Promozione per depotenziare il Teramano, che si chiede il messaggero, che ricorda anche quando Nadia Toffa fece domande scomode in città. Processioni in mare, niente comunione, Paolo Vasanella, presidente del Consiglio Comunale di Giulia Nova, rifiuta il sacramento dal parroco e dice sono divorziato, l'episodio sfuggito è più, è accaduto durante il corteo di barche. Subito dopo c'è stato il chiarimento con Don Luca, ma andiamo avanti con il quotidiano. La città di Teramo, che titola percorsi formativi per i giovani abruzzesi. Il servizio istruzione ha approvato la graduatoria finale dell'avviso pubblicato nel novembre scorso. Mauro Febbo, pienone negli alberghi per il periodo di ferragosto. Quindi queste le dichiarazioni di Febbo, mentre leggevamo in realtà che il turismo quest'anno non è in una situazione delle migliori. Insomma, ma la politica, la giunta lenta di Marsilio, rimandata a settembre per in concludenza i consiglieri di centrosinistra sui primi sei mesi di governo, uniti dalle poltrone, non li interessano gli abruzzesi. E qui, punto punto, tutte le questioni dei primi sei mesi di governo, appunto. Andiamo avanti, parlando di sanità. Pronti piani per tagliare le liste d'attesa. Le ASA abruzzesi hanno trasmesso al Dipartimento Salute della Regione i rispettivi progetti aziendali. E vediamo anche 2 milioni di euro dalla Regione, a cui si aggiungono 7,6 milioni di fondi statali per un triennio. Andiamo avanti. Degrado e miasmi nelle cantine di Via Longo a Teramo. L'allarme igienico-sanitario per le palazzine sgomberate. Riaccende il dibattito sul destino dell'aria. Ma vediamo Teramo, città chiusa per ferie a ferragosto. Per quanto riguarda le strade del quadrilatero, protestano i commercianti. Ma vediamo la cronaca, chiusa l'inchiesta sulla notte di sangue. Sei l'indagati a vario titolo per i fatti dell'hotel Atlante. Cera deve rispondere di tentato omicidio. Ma leggiamo anche del pronto soccorso di Sant'Omero al collasso. La denuncia di Nursind. Gli accessi dei pazienti raddoppiano. Ma l'ASL indebolisce l'organico. Andiamo avanti. Ancora abusi e sigilli negli chalet. Chiusi un locale per la ristorazione senza autorizzazioni. E tre magazzini tra Tortoreto e Alba Adriatica. Ma andiamo subito a leggere lo sport. A partire dal quotidiano, il centro. Andiamo a vedere appunto lo sport che riguarda la nostra regione. A partire ovviamente dalla serie B. Palmiero, il professore, già il faro del Pescara, l'erede di Brugman di proprietà del Napoli. Al centro del progetto di Zauri. E i suoi ex allenatori, Saurini e Grassadonia, ha testa e tecnica per affermarsi. Ma anche un sondaggio per Biarnason. Ma è fuori portata. La Rosa si alleggerisce. L'Isald e Tascone vanno a Catanzaro. L'esterno d'attacco. Stojan va al Livorno. Mentre vediamo il pari della primavera con il Zambuceto. In evidenza l'argentino Mercato, che va a segno in canta con alcune giocate. Andiamo avanti. Parla di Giuseppe. L'incubo è finito. Pronto a tornare. Il 22 agosto scade la squalifica per illecito dopo il caso Savona. Ho voglia di rimettermi in gioco. Per me parlano i risultati. L'ex direttore sportivo del Teramo. Teramo, Lavastese, Pari, Pirotecnico, Amelia, Fermenzaghi. All'Aragona i Biancorossi, per quanto riguarda la Serie D, bloccano il Benevento che milita in B. Sotto di due gol, Cardinale e la doppietta di Esposito ribaltano i Campani. Doppio, Sanzovini, Notaresco, Dilaga. Il rosso-blu travolgono il piano della lente. Avezzano preso, Quatrana, Chieti ok. Serie D subito, Vastese, Chieti. Pineto punta alla C perché ieri è stato sorteggiato il calendario di Serie D. Sì, ma vediamo anche il messaggero rapidamente. Bjarnason Pescara ha più di una speranza. La società condatta gli agenti del vichingo svincolato. L'ingaggio è il vero ostacolo ad oggi. Per il mediano si guarda anche all'estero. Proposto Van den Boomen dal FC Endoven. Pesoli, secondo me, mancano un paio di rinforzi. Ma anche Super Vastese stoppa il Benevento. Abbiamo visto la squadra di Serie D che ha bloccato la squadra di Serie B. Ma vediamo anche la città. Teramo in attacco c'è anche Magnaghi. Accordo praticamente raggiunto col giocatore del Pordenone. Calda anche la pista per Bombaggi nell'editoriale di Jacopo Forcella. Vediamo anche Cerqueto vince in campo e nel terzo tempo il torneo di calcio a 5 a Nerito ha decretato le vincitrici. Il Real Bellante si afferma in quello femminile. Per la rassegna stampa di oggi è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata con la nostra programmazione. Grazie. 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 Grazie.